Come ha comunicato Mario Draghi durante l'ultima conferenza stampa che si è svolta pochi minuti fa a Palazzo Chigi, buonasera a tutti e a tutti, io mi chiamo Patrick Facciolo, mi occupo di formazione e di consulenza sui temi del public speaking, l'arte di parlare in pubblico. Un accorgimento prima di cominciare, come sempre faccio quando mi occupo di comunicazione politica, cerchiamo di distinguere le nostre opinioni sul politico di cui si parla all'interno del video e cerchiamo per un momento, per qualche minuto, di spostare la nostra attenzione da quello che pensiamo noi del politico all'osservazione di quello che è accaduto in un particolare momento, appunto, la conferenza stampa di Mario Draghi. Ho preso un po' di appunti e mi piace condividerli con voi a caldo. Voglio cominciare subito da un passaggio importante della conferenza stampa di Mario Draghi in cui ha parlato delle cosiddette strategie 2G, 3G, ha parlato Mario Draghi di estensione al 3G per molte attività che non lo avevano e al 2G per molte altre attività. Ora, in un periodo storico in cui si parla moltissimo di 5G, la scelta di utilizzare la formula 2G e 3G all'interno di un discorso la trovo non particolarmente efficace, perché è facilmente confondibile. A 5G le persone attribuiscono naturalmente e univocamente qualcosa che ha a che fare con la telefonia cellulare. A 3G anche. Il 3G è stato uno degli step delle velocità di navigazione possibili attraverso il cellulare. Il 4G anche. Il 5G è la nuova frontiera da questo punto di vista. Nell'ambito della vaccinazione 2G e 3G vogliono dire cose completamente diverse. Ora, se in una conferenza stampa noi utilizziamo questo termine 2G e 3G senza spiegarlo, rischiamo di creare molta confusione. Lo spiego io che cosa significa 3G e 2G, perché non è che la cosa sia chiara a tutti. Intanto la lettera G deriva, è l'acronimo sostanzialmente, di alcune parole che nascono all'interno della cultura tedesca. Le G stanno per geimpt, genesen e getestet, cioè vaccinato, guarito o testato. Quindi 3G vuol dire proprio questo, vaccinato, guarito o testato. 2G vuol dire vaccinato e guarito. vaccinato e guarito. Per cui sostanzialmente la strategia 2G è una strategia più limitativa, cioè ti faccio fare delle cose solo se sei vaccinato e guarito. 3G è ti faccio fare delle cose se sei vaccinato, guarito o testato. Ma se io all'interno di una conferenza stampa dico estensione al 3G per molte attività che non lo avevano e al 2G per molte altre attività, diventa molto difficile che il mio interlocutore capisca. Il mio interlocutore finale sono i cittadini fondamentalmente, non tanto i giornalisti. Sono i cittadini perché le conferenze stampa vanno in diretta, vengono trasmesse in diretta e vengono riproposte poi dai telegiornali. Ora, se io uso questa terminologia, il rischio di non farmi capire dalle persone a casa è un rischio alto, è un rischio importante. Quindi questa parte, questo utilizzo dell'acronimo, chiamiamolo così, 3G, 2G, non lo trovo particolarmente efficace. Mario Draghi è poi tornato sul tema presidenza della Repubblica, dicendo sostanzialmente non risponderò a domande che hanno a che vedere con le questioni legate al Quirinale. Ora, è chiaro che il giornalista come lavoro fa delle domande, gli sono state fatte comunque delle domande su questo tema, Mario Draghi si è riservato di non rispondere a queste domande. Ora, qual è il tema qui e a che cosa ci espone nuovamente? Ci espone nuovamente al tema delle immagini mentali, perché è la chiara, questo passaggio di Draghi che rifiuta di rispondere alle domande sul Quirinale, è la chiara rappresentazione del pericolo e del rischio che si corre ogni qual volta si attivino determinati scenari di immagine mentale. Cioè, qualunque risposta lui avesse dato a qualunque domanda avrebbe attivato degli scenari con relative interpretazioni, si direbbe dal punto di vista filosofico, ermeneutiche, per cui per giorni tutti si sarebbero cimentati nel dare significato a quelle parole. Qualunque parola lui potesse dire sarebbe stata presa e interpretata. Qualunque cosa avesse detto, è un terreno quello della comunicazione politica, ed è poi la base del media training, cioè della formazione che riguarda il mondo dei media, che si gioca moltissimo sul tema dell'immagine mentale, e talvolta l'unica strategia vincente in questo ambito è non giocare. Cioè, di fronte a un determinato tema, io non coopero con l'attivazione di alcuna immagine mentale, perché l'immagine mentale, una volta che l'ho attivata, l'ho attivata, ed è difficile disattivarla. Questo è il punto. Fondamentalmente è il solito discorso del non pensare a una mela, ma ho detto mela. E se ho detto mela, automaticamente tutti pensiamo a una mela. Se io dico, non sono interessato al Quirinale, ho detto Quirinale, Draghi si è occupato di Quirinale. Draghi vuole diventare o no Presidente della Repubblica, e tutti i titoli si sposteranno su quello. Ecco, il tema è esattamente questo, riuscire a riconoscere che talvolta non affrontare un determinato argomento permette di non attivare determinate immagini mentali. Altro aspetto importante di questa conferenza stampa, il Ministro Speranza, che ha mostrato dei dati sull'efficacia dei vaccini e sul fatto che molti dei ricoverati attuali in terapia intensiva sono non vaccinati, ha mostrato un cartello, in realtà un foglio di carta grande, dove si intravedeva una piega molto vistosa in mezzo, ed era un foglio di carta di spessore standard. Ora, il punto è, dal punto di vista grafico, mi è persa una scelta piuttosto efficace, nel senso che il rapporto di forza era abbastanza evidente e mostrava proprio come la maggior parte dei ricoverati in terapia intensiva fosse di non vaccinati. Anche qui mi fermo, per cortesia, se state guardando questo video semplicemente per capire se sono d'accordo o non d'accordo sulla questione dei vaccini, cercate di seguirmi per quello che sto dicendo, non per quello che pensate della vaccinazione, ok? Dicevo, è chiaro dal grafico che quello che voleva mostrare il Ministro Speranza, cioè che i non vaccinati sono di più in terapia intensiva rispetto ai vaccinati, arriva come messaggio. La domanda che mi faccio, da un punto di vista però dell'efficacia comunicativa, ma è possibile che si debba arrivare in conferenza stampa con un foglio piegato in mezzo, con le piegature, eccetera? Non si può usare una slide? È possibile avere un cartonato? È possibile avere un plastificato cercando di fare in modo che non rifletta sulle luci? Insomma, queste cose si provano, vanno provate, tanto che ci sono state a disposizione più giorni per preparare questa conferenza stampa perché non è stata fatta subito dopo il decreto, è stata fatta qualche giorno dopo. Allora, invece di un foglio, si può avere una slide nel 2022 quando si fa una conferenza stampa di questo livello nazionale? Ecco, questa è la domanda che mi faccio un po' da persona che si occupa di comunicazione, di formazione nell'ambito della comunicazione. Sarebbe auspicabile dal mio punto di vista? Detto questo, l'efficacia del grafico era in dubbia dal mio punto di vista. Ecco, torniamo a Mario Draghi e per analizzare un attimino invece la comunicazione non verbale, il linguaggio non verbale, una cosa che mi colpisce spesso di Mario Draghi è questa postura dove lui appoggia i gomiti praticamente sul tavolo costantemente, mentre se notate nella postura del ministro Speranza c'è una gestualità più libera delle braccia, a cui poi corrisponde anche una maggiore libertà di movimento delle mani. La postura di Mario Draghi che appoggia i gomiti in questa maniera sul tavolo è una postura che non favorisce il movimento delle braccia, è una postura che sicuramente da un punto di vista volumetrico occupa più spazio nell'inquadratura e probabilmente conferisce una presenza più stabile all'interno dell'inquadratura e anche più ampia, cioè il mio corpo occupa più spazio dentro l'inquadratura e questo poi ovviamente dal pubblico può essere interpretato in mille modi possibili, tuttavia questo è l'effetto, occupare più spazio nell'inquadratura. Non vuol dire che il desiderio è il comunicatore, ho detto che è l'effetto, osserviamo quello che succede. Dall'altra parte è una posizione questa che impedisce il movimento di mani e braccia nella gesticolazione, quindi è una postura che non ci aiuta se vogliamo, se ci sentiamo di gesticolare, di muovere le braccia in maniera più ampia e più libera. Questa è l'osservazione che mi sento di fare rispetto a questa postura che Mario Draghi peraltro utilizza spesso all'interno delle sue conferenze stampa. Ecco in conclusione se dovessi dare un punteggio finale alla comunicazione di questa conferenza stampa direi sei e mezzo nel complesso tenendo conto sia del ritardo con cui è stata fatta e anche dell'intervento del Ministro Speranza e di questo cartello e di questo grafico. Direi sette per quanto riguarda il discorso del Presidente del Consiglio e sette che dipende dalla fermezza secondo me eccessiva con cui ha comunicato ai giornalisti che non avrebbe risposto sulle domande legate al Quirinale. Questo perché si poteva dire anche in modalità più morbida, secondo me è stata troppo avversativa nei confronti dei giornalisti e di conseguenza del pubblico e sette per via del tema 2G3G che è assolutamente incomprensibile dal mio punto di vista nel senso che o se io uso un acronimo lo spiego oppure quel pezzo di discorso diventa difficilmente comprensibile per il pubblico. Detto questo altri aspetti della conferenza stampa sono stati più fruibili, altre modalità che ha usato per comunicare sono state molto semplici per esempio la prima frase, la frase di attacco, ha detto semplicemente questa conferenza stampa ha al centro i primi provvedimenti di quest'anno, un anno che dobbiamo affrontare con realismo, prudenza, con fiducia, soprattutto con unità. Una frase lineare, semplice, con parole piane che dal punto di vista della linguistica diremmo computazionale è una frase molto immediata, molto leggibile si direbbe, quindi questo è un aspetto positivo, è quello che propende di più a portarmi verso il sette come punteggio che attribuirai a questa conferenza stampa, mentre gli altri due aspetti sono quelli che lo separano appunto dall'avere un punteggio migliore. E prima di salutarvi voglio ricordare a quante e quanti di voi volessero ricevere le notifiche per video e contenuti di questo genere che è possibile iscrivervi al mio canale YouTube Patrick Facciolo appunto in modo tale da restare aggiornati tutte le volte che pubblicherò contenuti di questo tipo. Grazie a tutte, a tutti e alla prossima!